Buon Natale, ben trovati con il magazine di Antenna Sud per riassumere i fatti della settimana. Settimana che purtroppo si apre con un fatto tragico avvenuto a Taranto, a Rione Tamburi. Lunedì due guardie giurate stavano scaricando denaro dal furgone nella sede di una banca quando sono stati attaccati da alcuni malviventi. Una guardia giurata ha accennato ad una reazione e il rapinatore l'ha fatto fuoco uccidendole. Si chiamava Francesco Malcore, la guardia giurata di 35 anni uccisa nel pomeriggio intorno alle 15 in una sparatoria davanti alla filiale Unicredit nel Rione Tamburi di Taranto. L'uomo è stato sparato con un colpo di pistola alla testa durante la consegna di denaro da un furgone portavalori alla banca per aver accennato ad una reazione. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, due banditi con il volto coperto e armati con pistole hanno atteso l'arrivo del furgone portavalori davanti alla banca. Uno dei due si è avvicinato alla guardia giurata e l'ha minacciata perché consegnasse il denaro. Con Malcore e un'altra guardia giurata, Giuseppe Moretti, rimasto illeso. I rapinatori si sono impossessati del sacco con il denaro che ammonta a 30.000 euro e sono fuggiti. Nella zona della rapina e dell'omicidio i carabinieri hanno trovato e sequestrato una Fiat 500 risultata rubata. Non escluso che l'auto sia stata utilizzata dai rapinatori per raggiungere la banca e lasciata lì. Intanto posti di blocco, perquisizioni e interrogatori sono in corso a Taranto per cercare di individuare i rapinatori. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di alcune telecamere di solverglianza. Malcore lascia la moglie e due bambini. 33 patteggiamenti nel processo sui test d'ingresso truccati alle Facoltà di Medicina e Odontoiatria di Bari, Foggia, Ancona e Chieti. Siamo a martedì. Tra questi anche la presuntamente dell'organizzazione, il professor Marco Antonio Pollice, che ha concordato una pena di un anno e otto mesi di reclusione. Nel 2007 truccarono i test d'ingresso alle Facoltà a numero chiuso di Medicina e Odontoiatria delle Università di Bari, Foggia, Ancona e Chieti. La mente dell'organizzazione, il professor Marco Antonio Pollice, suo figlio, sua moglie e altri 30 imputati, studenti e genitori, hanno patteggiato la pena. Pollice ha un anno e otto mesi di reclusione per i reati di truffa e peculato. Gli stessi contestati a suo figlio Odontoiatra Giulio e a sua moglie Paola Favaretto, che hanno patteggiato la pena a un anno e due mesi. I tre saranno inoltre processati con rito abbreviato a partire dal prossimo 19 gennaio, insieme ad altre sette persone per il reato di associazione per delinquere. Gli altri 30 imputati, per i quali sono stati ratificati i patteggiamenti, hanno concordato quattro mesi, per tutti convertiti in pena pecuniaria pari a 5.000 euro. Secondo l'accusa, Pollice con la moglie, il figlio e altri quattro professionisti avrebbe allestito per i test del 4 e 5 settembre 2007 due centrali operative, da cui partivano via SMS le risposte ai quesiti ministeriali. I genitori sarebbero stati direttamente coinvolti nella truffa in qualità di intermediari con le centrali operative. Gli altri 86 imputati saranno giudicati a partire dal 23 febbraio 2012 dalla prima sezione collegiale del Tribunale di Bari. Un tirocinio di 6 mesi retribuito è quanto prevede il bando da 10 milioni di euro per l'inclusione lavorativa e sociale dei più deboli indetto dalla Regione Puglia. Una buona notizia, sentiamo. È rivolto ai più deboli il nuovo bando del piano straordinario per il lavoro in Puglia da 10 milioni di euro indetto dalla Regione Puglia. 2.000 i potenziali destinatari, ex detenuti o persone sottoposte a misure restrittive e alternative alla pena, disabili, pazienti psichiatrici stabilizzati o in trattamento riabilitativo, minori in età lavorativa a rischio di devianza, adulti che vivono soli con minori o persone che hanno sofferto e soffrono di dipendenze patologiche, donne vittime di tratta e di violenza, infine donne sole con figli. Il bando rappresenta un contatto con il mondo del lavoro. I soggetti che parteciperanno seguiranno un tirocinio di circa 6 mesi retribuito, con un compenso che oscilla dai 500 agli 800 euro al mese. Le domande dovranno essere inviate entro il 14 marzo 2012. Con questo bando salgono a 23 gli interventi del piano per il lavoro per un impegno di oltre 255 milioni sui 340 totali. Saranno i 45 ambiti territoriali sociali, ovvero comuni, singoli o associazioni, ad invitare enti e imprese che già svolgono attività di inserimento sociolavorativo a presentare progetti per un determinato target, ad esempio disabili. La regione erogherà le prime anticipazioni del 50% già a giugno 2012. Il porto di Taranto potrebbe essere il primo scalo italiano ad ottenere la certificazione della LAL International Authority per commercializzare senza problemi con i paesi islamici. All'inizio di settimana è stato posto il primo passo in questa direzione. Sentiamo Mauro De Nigris. Il porto di Taranto potrebbe diventare il primo scalo italiano a LAL, ossia il primo ad ottenere la certificazione rilasciata dalla LAL International Authority che prevede il rispetto delle norme islamiche. Un cammino lungo e difficile ma di grande importanza soprattutto dal punto di vista economico. In Europa fino ad ora c'è solo un altro porto certificato, quello di Rotterdam, che ovviamente è preferito per tutta la merce europea diretta nei paesi musulmani e viceversa. Il primo passo è stato messo questa mattina a Taranto. Innanzitutto dobbiamo trovare in percorso il percorso utile per raggiungere questa certificazione insieme ai rappresentanti a LAL perché la nostra natura giuridica come autovità portuale è diversa da quella di Rotterdam. Ma a noi interessa moltissimo la possibile creazione di un hub a Taranto per la distribuzione e il trasferimento di tutte le merce LAL in tutti i paesi del mondo musulmano che come sappiamo sono oltre 2 miliardi di persone. La certificazione del porto di Taranto sarebbe il primo tassello per realizzare in Puglia Halal Hub, primo centro di smistamento europeo di merci e passeggeri dall'Europa verso i mercati islamici e viceversa. In parallelo dovrebbe procedere il Puglia Halal Park, un centro direzionale per la compravendita di prodotti e servizi fra l'Europa e i mercati islamici. Un vero e proprio ponte dunque verso il Nord Africa e il vicino a Medio Oriente. Oggi al porto di Taranto abbiamo discusso la costituzione del Halal Hub, il primo Halal Hub d'Europa. Questo significa costituire all'interno della Puglia un'area intermodale di smistamento di tutte le merci che proverranno dal Nord Europa e saranno indirizzati verso i mercati islamici. E anche il viceversa, la merce che proverrà dai mercati islamici e attraverserà l'Europa. C'è anche da dire che per tutto il traffico di incoming, quindi passeggeri, ci sarà grande opportunità come sempre attraverso il Halal Hub che sarà costituito partendo dal porto di Taranto mettendolo a sistema con altre realtà portuali e aeroportuali della Puglia. Giù le mani dall'articolo 18 con i diritti dei lavoratori non si scherza. Il governatore pugliese, Nichi Vendola, ha preannunciato che metterà in campo ogni azione possibile per evitare che il Governo nazionale metta mano all'articolo 18. Martedì l'ha intervistato per noi e lì parla vecchia. Chiunque sia il Governo, se si permettesse di intaccare e di sfregiare i diritti dei lavoratori non potrebbe che ricevere una reazione durissima. E farlo usando l'argomento più volgare, più demagogico, che siccome ci sono i giovani precari non garantiti allora bisogna togliere le garanzie poche a chi ce le ha già, è veramente un argomento insopportabile. Perché il problema non è togliere le garanzie a chi per garanzie ha 1300 euro al mese e il diritto di non essere licenziato. Il problema è estendere le garanzie a chi non ne ha mai potuto godere. Ecco, su questo piano non si gioca, non si scherza. Non si scherza. Sul piano dei diritti dei lavoratori non si scherza. In un paese che ha un milione di incidenti sul lavoro all'anno più di mille persone che muoiono ogni anno in questa guerra che è il mercato del lavoro non si può pensare di fare passi indietro. L'Italia si attende passi in avanti, non passi indietro. La Regione Puglia che farebbe? Nel caso in cui il governo invece andasse avanti? Noi abbiamo lavorato in questi anni per fare il contrario, per aprire percorsi di stabilizzazione, per combattere contro la precarietà e il precariato, per dare un'interpretazione del lavoro inteso come diritto, come diritto di cittadinanza, come bene comune. Ecco, noi per le nostre responsabilità continueremo a lottare per il lavoro e per la cultura del lavoro. E con le nostre forze ci opporremo a qualunque regressione civile, culturale e sociale. Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo è il titolo del libro scritto dal sindacalista della FIOM CGL Maurizio Landini che ripercorre la travagliata vicenda dei lavoratori FIA. Tabari, in occasione della presentazione, si è parlato naturalmente anche del delicato momento che vive tutto il mondo del lavoro italiano. Per noi c'era Giuseppe Pace. Un libro in presa diretta che ripercorre cosa è accaduto prima e cosa ha significato poi il 14 gennaio 2011, giorno del referendum di Mirafiori, che ha sancito la vittoria della FIAT e la sconfitta di grande successo della FIOM di Maurizio Landini. Tutto questo è raccontato in Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo, edito da Bonpiani. Il libro, intervista, scritto proprio dal segretario generale della FIOM CGL Maurizio Landini e dal giornalista Giancarlo Feliziani. A Bari, per l'occasione, oltre all'autore, anche il governatore pugliese Nichi Vendole e l'esponente di Confindustria Alessandro Laterza. Spaziando su temi di stretta attualità del mondo del lavoro, come flessibilità articolo 18 e necessità di crescita, sul caso FIAT Landini ha parlato di pericoloso silenzio della politica, con i lavoratori lasciati da soli in una situazione di debolezza. Dovrebbe il governo chiedere ufficialmente alla FIAT di impegnarsi, non solo verso i lavoratori, verso il paese, verso le istituzioni, perché quando la FIAT dice o fate quello che dico io o me ne vado, non sta ricattando solo i lavoratori, sta ricattando anche questo paese, sta ricattando le istituzioni, sta ricattando i territori e non gli può essere permesso. Siamo di fronte a un'involuzione pericolosa e che mette in discussione il sistema in senso generale, con un arretramento, perché se tu cancelli i contratti, se tu cancelli i diritti, se cancelli le leggi, sei di fronte al fatto che la competizione non la fai più per la qualità del prodotto, per le cose, lo fai in un'altra direzione, non è un caso che la FIAT non sta dicendo che investimenti fa, perché non ne sta facendo, perché c'è un ritardo, perché questo è il punto vero, se in Italia sei di fronte al fatto che stai perdendo quote di mercato, è questa. In manette, mercoledì, la seconda persona coinvolta nell'omicidio di Francesco Campanella, il pregiudicato ucciso a Modugno, lo scorso 14 novembre. Si tratta di Antonio Domenico Guglielmi, vicino al clan Capriati. Per identificare un quarto uomo presente sul luogo del delitto, la Procura di Bari ha diffuso un video. Isabella Maselli. Potrebbe esserci una storia di estorsioni o comunque un affare legato alla gestione di un'attività commerciale dietro l'omicidio del 48enne pregiudicato Francesco Campanella, ucciso a Modugno il 14 novembre scorso. Per il delitto era già stato arrestato il 34enne Nicola Lupello, rimasto ferito nell'agguato. Ieri è finito in manette il pregiudicato 41enne Antonio Domenico Guglielmi, vicino al clan Capriati di Bari, rintracciato a Modugno in compagnia di una donna, subito denunciata per favoreggiamento personale perché Guglielmi era già latitante in seguito ad una condanna definitiva per estorsione e usura. Secondo la ricostruzione del delitto fatta dai carabinieri, quella sera la vittima in compagnia di una persona rimasta non identificata sarebbe stata avvicinata da Lupello. Dietro una siepe della sua abitazione, accanto ad un capannone adibito ad officina meccanica in via dei Gelsomini nella zona industriale di Modugno, c'era nascosto Guglielmi che quando ha visto Lupello armato gli ha sparato ferendolo. Non si è fatta attendere la risposta di Lupello che ha reagito uccidendo Campanella. La dinamica è stata ricostruita grazie al video delle telecamere di sorveglianza posizionate nel cortile della casa della vittima, video che la Procura ha voluto diffondere sperando nella collaborazione dei cittadini per identificare la quarta persona presente sul luogo del delitto che stando alle immagini non avrebbe avuto un ruolo attivo ma potrebbe fornire elementi utili a ricostruire gli affari di vittima e killer. E a metà settimana il sindaco di Bari Michele Emiliano lancia un nuovo progetto politico incentrato sulla forza delle liste civiche. Il primo arruolato è Tommy Attanasio, ex coordinatore cittadino di AN. Mauro De Nigris. I partiti tradizionali sono in crisi e non riescono più a rispondere alle esigenze dei cittadini? La ricetta per andare oltre e non perdere voti, anzi cercare di coalizzare tutte le forze politiche non in grado di dare un nuovo impulso, sostiene di averla il sindaco di Bari, fondatore della lista civica che porta il suo nome, nonché presidente regionale del PD Michele Emiliano. Lungi dal voler abbandonare il Partito Democratico che pure non manca di criticare, Emiliano sta pensando ad un coordinamento delle liste civiche o forse di liste elettorali, almeno quella del centro-sinistra, per superare la crisi della politica. Si chiama lista Emiliano perché, come posso dire, utilizza quello che a Bari la lista Emiliano ha fatto nel 2004 e poi nel 2009, ma può tranquillamente essere considerata una federazione delle liste civiche che condividono con noi un certo progetto di società che è espresso dal modello di governo della città di Bari e che noi pensiamo di poter esportare, sia pure con gli dovuti adattamenti, a tutte le altre città della Puglia. Certo, il sindaco di Bari dovrà fare i conti anche con la lista del governatore Vendola. Vendola ha tre fondamentali elementi organizzativi, il partito, Sinistra e Libertà, le fabbriche di Nichi che sono dei luoghi aperti e poi la lista Puglia per Vendola. È chiaro che lui ha la forza economica di finanziare questo insieme di cose, noi non abbiamo una lira, questa è la differenza, però fondamentalmente credo che stiamo andando nella stessa direzione, stiamo cercando di dare la possibilità agli italiani che vogliono partecipare e fare politica, di farla senza sentirsi costretti a partecipare a un congresso, a farsi una tessera, integrarsi in questa o quella corrente e questo elemento, secondo il mio punto di vista, è un elemento che fa della Puglia sia dal punto di vista del PD sia dal punto di vista della sinistra radicale di Vendola, fa della Puglia un laboratorio politico di estremo interesse. Il primo arruolato esterno è Tommy Attanasio, ex coordinatore cittadino di Aene e poi uomo di spicco del PDL barese. C'è stata una forte volontà di dialogare con Michele Emiliano, quindi partecipare e collaborare alla sua lista in modo da poter rendere ariosi i propri pensieri senza caratterizzarli da uno schema che credo sia anche abbastanza stantio e che i cittadini non lo gradiscono più. Giovedì da Roma arrivano buone notizie da più fronti, la Corte dei Conti ha sbloccato più di un milione di euro per le infrastrutture in Puglia sul fronte dell'università e della ricerca, a breve ci saranno nuovi investimenti, che è libera poi ad un accordo che finanzia il trasporto pubblico locale, ma ci dice tutto Gianluca Boezio. Parere favorevole della Corte dei Conti ha la delibera CIBE da 7 miliardi di euro che assegna alla Puglia quasi un miliardo e 300 milioni per le infrastrutture. La notizia arriva a margine della riunione tra governatori e tecnici delle otto regioni meridionali con i ministri Barca, Coesione Territoriale e Profumo, Pubblica Istruzione. Al centro dell'incontro una ricognizione sull'impiego e l'eventuale riprogrammazione dei fondi FAS da parte delle regioni e l'avvio della seconda fase del PON Ricerca. Sulla ricerca, sul sistema universitario abbiamo fatto una discussione che può servire soprattutto dal punto di vista metodologico a capire come organizzare il lavoro per rendere la spesa sempre più qualificata e veloce. La proposta di Vendola accolta all'unanimità è un tavolo di concertazione tra governo, regioni e ministero per l'utilizzo oculato dei circa 400 milioni a disposizione. Il ministro Profumo spinge all'individuazione di percorsi di ricerca innovativi, di respiro europeo come nel settore della banda larga. Buone notizie anche sul fronte del trasporto pubblico locale. Governo, regioni e comuni hanno siglato al Ministero per gli Affari Regionali l'intesa che impegna lo Stato a finanziare le ferrovie locali con 1 miliardo e 600 milioni di euro. A metà gennaio inoltre verrà aperto un tavolo per razionalizzare e migliorare il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. Parlare del Natale, parlare del Natale per far rinascere uno storico teatro barese. Il teatro abegliano è accaduto nel quartiere Iapigia di Bari. Non tengo denaro, ma tengo giornale. E la luce è poca. Ta ta, ta ta, evviva ta ta, ha fatto la spesa e già data mangia. Natale è il momento giusto per ricordarsi degli altri, per fare quell'opera buona che si rimanda da troppo tempo, per contribuire a dare vita ad un progetto orgoglio dell'intera città come la costruzione del nuovo teatro abegliano che il 3 febbraio rinascerà nel quartiere Iapigia in via Padre Colbe, nei pressi della parrocchia della Resurrezione. 300 posti, un palco di 14 metri per 12 per una spesa di circa 750 mila euro, in gran parte coperti da un mutuo acceso dall'abegliano che ha rilevato dalla parrocchia con contratto d'affitto l'edificio che vedete nelle immagini e che originariamente doveva ospitare un cinema. La Resurrezione attraverso Don Enrico è stata la prima, subito dopo lo sfratto, ad offrirci la possibilità di questa location. Non solo andiamo, ritengo, ad arricchire un quartiere da questo punto di vista non troppo servito. E poi c'è un altro dato importante, che l'avessimo fatto due anni fa, certo c'era il suolo, c'era il grande teatro nuovo, sarebbero stati 350, forse 400, ma l'investimento sarebbe stato il doppio. Adotta il nuovo teatro abegliano è stato il claim della conferenza spettacolo organizzata da regista Vito Signorile e Giorgio Otranto, docente di storia del cristianesimo antico all'Università di Bari. Un modo per parlare degli aspetti del Natale e per invitare i partecipanti a donare anche una piccola cifra per far rinascere questo teatro e per coprire la parte restante dell'investimento. Chi volesse contribuire ad adottare il nuovo teatro abegliano a partire da 10 euro potrà farlo tramite banca cercando i riferimenti sul sito www.teatroabegliano.com Sapete quali sono le tradizioni a tavola di Natale, della Vigilia e di Natale? A noi l'hanno spiegato due donne di Bari Vecchia davvero molto esperte in fatto di cucina. Sentiamo Anna Deliaturi. Rappe stufate, carne, pesce, brodo, piatto ricco, micifico. Tra tradizione, gusti e sapori di casa nostra le donne di Bari Vecchia ci spiegano i menu tipici di 24-25 dicembre, vigilia e giorno di Natale. Ma cominciamo da un particolare. È d'obbligo all'ora di pranzo nel giorno della vigilia fare il cosiddetto spuntino, ovvero un trancio di focaccia accompagnato da un piatto di rape stufate, insomma tenersi leggeri per arrivare con il giusto appetito al cenone della vigilia. Alle 19.30 massimo tutti a tavola per un menù da leccarsi i baffi. fare le maccherone con le sgamberi o le maccherone con le angille, angille o pesce. L'anguilla. L'anguilla, l'anguilla. Oppure col tonno, capri, secondo il desiderio. Poi le finocce, le rapi, il baccalà, fritte, cialdas, frutti e tutte le cose di Natale. I frutti di mare. I frutti di mare. E dopo la grande abbuffata ecco il momento dedicato alla fede. Tutti, grandi e piccini, fanno una piccola processione per deporre Gesù Bambino nella grotta. Prima le preghiere. Poi una volta che abbiamo fatto le preghiere, prendiamo Gesù Bambino con un bambino piccolo e giriamo per la casa, gli diamo un bacino e la mettiamo sotto dalla grotta. Ed eccoci al giorno di Natale per un menù di tutto rispetto. Brodo. Brodo. Ma che pasta si usa? I tortellini? No, prima facciamo le tritte, dopo vado la mamma. I quadrucci? No, sono tutti sfaticati. Non siamo tutti uguali, perché c'è la ragazza che tiene il sistema nostro di una volta. Quindi i quadrucci? I quadrucci. Oppure le tortelline, come si chiama? A me non mi piacciono. E che cosa? I tortellini? Non mi piace. La carne rostita, l'agnello. E infine, un capitolo a parte, meritano i dolci. Facciamo carte d'arte, facciamo castagnette, facciamo tutto. Buu, niente. Come si prepara un presepe? Noi siamo andati in giro per la città di Bari e ne abbiamo scoperti alcuni molto particolari e suggestivi. Vediamo. Con le luci colorate, le statue antiche, ispirate a tradizioni familiari, a Bari il Natale vuol dire presepe. Sono migliaia le famiglie che il 6 dicembre, giorno dedicato a San Nicola, tirano fuori dai cartoni il necessario per realizzare il presepe in casa. C'è chi lo allestisce in cucina, chi nel salone, purché sia ben adobbato e arricchito ogni anno da qualche novità. A Bari Vecchia si usa realizzarlo in un mobile come questo. È lo spazio giusto per inserire la grotta torniata dalle luci, la carta dorata e le piccole statue. Chi ama la tradizione sa che una volta accese le luci, il presepe non si spegne mai, fino al 7 gennaio, giorno dopo l'Epifania. Ecco invece un altro presepe tipico di Bari Vecchia, la grotta con la natività insieme con l'ultima cena degli apostoli che la signora Teresa Sforza realizza ogni anno. E poi c'è il grande presepe, quello che ogni anno si realizza in casa Bux per sistemare pecorelle, statue, raffiguranti, mestieri e angioletti bastano un paio di giorni. E poi la novità, il presepe di casa Coccorese che ogni anno il signor Antonio Salernitano di origini arricchisce di personaggi. Per lui realizzare il presepe in compagnia della famiglia è come tornare indietro nel tempo e rivivere la sua infanzia. Già il mio nonno nell'ottocento lo faceva, essendo noi di provenienza salernitana, quindi il panorama non è proprio quello della Palestina, sennò dei nostri posti con piccole paesine, piccole cose. Quindi già mio padre lo faceva, faceva dei sacrifici perché il babbo lavorava e quindi la sera si faceva. E noi figli certamente conserviamo la tradizione perché ognuno di noi a casa, nelle nostre case facciamo il presepe. E per finire ecco l'originale presepe del barese Michele Biancofiore, fruttivendolo di mestiere, artista nel tempo libero. Nel suo negozio a Bari in Via Napoli invita tutti ad ammirare questa originale natività. Quante serie di luci ci sono, tanto per cominciare? Le serie sono tante. È un bel presepe, ci ho messo un po' di buona volontà e ce l'ho fatta. Ho pensato di fare un pensiero per tutti i cittadini baresi, un pensiero dolce. E il presepe lo dedico giusto a loro e alla mia famiglia. Quante statue ci sono? Parecchie, non ho contate, sono tante, tante. Superiamo le cento forse? Voglio, anche trecento. Ma quanto si impiega a fare questo presepe? È un paio di mesi. Quindi cominci da? Settembre. Ma c'è qualcuno che ti aiuta, almeno forse la moglie? No. Signora, lei nemmeno? Tutto da solo, si mette là al pomeriggio e fa tutto da solo. Anzi è in gamba, è la sua passione. Quindi un marito fruttivendolo e artista. Tutto, tutto fa, sa fare tutto. Ed era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Sette Giorni Magazine. Da tutti noi di Antenna Sud, buone feste.